Il maestro e il compositore di Chiede Tirona, fresco vincitore del primo corso, il diritto della nostra compagnie bandiera all'Italia di Balassiare, fai un'altra tua musica e seguirà tra noi l'Himno Nazionale di Bavere. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!